Sarà il sofisticato incrocio dei dati che fornirà il sistema GPS del corpo forestale a quantificare tra pochi giorni la fetta di territorio distrutta nell'infernale giornata di giovedì tra Capodorlando e Naso. Intanto però una prima stima parla di circa 200 ettari, 50 di superficie boschiva e macchia mediterranea e gli altri 150 di colture e terreni agricoli mandati in fumo dal sole incendio partito da Contrata Brucoli nel comune di Naso e spinto dal vento sino alle colline che circondano Capodorlando. A questo si aggiungono i circa 15 ettari di terreni distrutti da un altro incendio scoppiato nella zona di convento a Naso e che all'ambito l'ex ospedale è danneggiato il parco suburbano. Appena aggiungeranno tutti i dati che consentiranno anche una stima esatta dei danni economici il carteggio verrà trasmesso dal disaccamento della forestale di Naso coordinata dal commissario Vincenzo Polino alla procura di patti. Quasi certamente a quel punto partirà l'inchiesta che però, va detto, appare molto complicata. Accendere un rogo ed attentare la vita di centinaia di persone, compromettendo anche l'ambiente e il territorio, purtroppo è un gesto criminale poco complesso e raramente vi è la collaborazione da parte dei cittadini. Non solo per omertà, ma perché obiettivamente è difficile notare gli incendiari nel momento in cui innescano il rogo. Per quello che ha devastato i territori al confine tra Capodorlando e Naso, vi è la quasi totale certezza che si sia agito sulla statale 116 all'altezza di Contrada Brucoli. Da lì l'incendio, sospinto dal vento, si è propagato per chilometri. E solo grazie al lavoro di forestale, di Naso e Galatino Amertino, della polizia, dei carabinieri, della protezione civile dei due comuni, dei vigili del fuoco e dei semplici volontari, si è evitato che almeno fossero risparmiate vite umane. Il commissario Polino ha ringraziato i sindaci di Capodorlando e Naso per l'enorme sforzo profuso in una giornata in cui la collaborazione ha evitato danni ancora peggiori. Fascicolo già aperto invece dai carabinieri di Capodorlando per quanto riguarda l'incendio che ha distrutto il negozio Brico, provocando danni che superano il milione di euro. Si indaga per verificare le notizie, secondo cui le fiamme che hanno letteralmente devastato l'attività commerciale e danneggiato un vicino deposito di ceramiche siano partite inavvertitamente da un uomo intento a bruciare sterpaie nel suo giardino vicino. Se la circostanza fosse accertata, scatterebbe la denuncia.